Io ho frequentato ambienti di luce, a me piace vivere così. Ho sempre fatto questa vita equi, te lo dico sinceramente. Quei dati sono tutti illusione, no? La mattina finiscano. Ma questa è la vita proprio che uno potrebbe fare. Quindi non ti è mai pesata la scomodità? Cioè questa è una scelta tua di vivere in questa maniera? No, io non sono scomodo, io sono proprio comodo lì. E dove dormi? Non dormi nel letto? Lì dormo. Ah ok, in quel telo lì steso. A me piace questa maniera equi, ho sui marmo, sui mogano.